Ben trovati, buona giornata, adesso bisogna ripartire, maglia di Lukaku sempre appesa, ho letto tanti i vostri commenti, tanto disfattismo come se fosse già perso tutto, finita la stagione, iniziata veramente la grande delusione, però sottolineiamo dei dati, insomma che l'Inter ha ancora 8 punti in più rispetto a quella della passata stagione e che ha solo 3 punti di distacco dalla Juventus che si andrà ad affrontare il primo marzo a Torino, quella la gara cruciale, fondamentale da non perdere, una gara quanto mai importante anche per dimostrare la crescita di questa squadra che ha sbagliato un po' gli scontri diretti, le grandi sfide, soprattutto ultimamente, perché facciamo un attimo un'analisi di come si è comportata l'Inter contro le grandi, ha vinto con la Lazio all'andata, forse l'unica bella vittoria in campionato, poi ha perso con Barcellona e Juventus a stretto giro, vi ricorderete, ha vinto col Dortmund, con cui poi ha perso incredibilmente al ritorno in quella rimonta assurda subita, in Germania nel secondo tempo, un vantaggio 2-0, poi pareggio con la Roma, sconfitta con il Barcellona, vittoria con il Napoli, che però considerarla grande in questo campionato è abbastanza difficile, con tutti i problemi che ha avuto la squadra che l'Indra poi ha affrontato, forse in un momento anche negativo, la riprova è arrivata in Coppa Italia settimana scorsa con la squadra di Gattuso che ha vinto a San Siro, poi pareggio con l'Atalanta, sconfitte con Napoli e Lazio, ultimamente settimana scorsa, in pochi giorni, ma non è cambiato tutto, in questo ci sta quel non siamo ancora grandi di Antonio Conte, ma l'invito a crescere ulteriormente, a far bene nelle grandi sfide, a cominciare da quella di Torino, mancano due settimane da cercare di recuperare, prima di tutto Andanovic che dovrebbe tornare domenica prossima con la Sampdoria, e poi inserire al più presto Christian Eriksen, un po' un paradosso, l'Inter ha comprato il giocatore più forte che ci fosse, diciamo, come obiettivo in mercato di riparazione, ma ancora non è pronto, Conte fatica a inserirlo nei suoi meccanismi, non conosce la fase difensiva, e per questo ancora non lo abbiamo visto titolare in campionato se non a Udine, quando però mancava Brozvic, c'era un'emergenza totale in mezzo al campo, e anche lì ebbe comunque, come ricorderete, le sue difficoltà con l'Inter che cambiò marcia solo con l'ingresso di Brozvic nel secondo tempo, al suo posto, e ritornando al solito 3-5-2, un altro step da fare, anche trovare dei modi diversi di giocare, perché ormai gli avversari hanno capito, insomma, come bloccare il 3-5-2 di Conte, come tagliare rifornimenti a Lukaku e a Lautaro, e non è un caso che questi due insieme in coppia non abbiano segnato nelle ultime tre partite che hanno giocato insieme, complici anche a tutte le voci che condizionano anche inconsciamente un po' Lautaro di questo Barcellona, sempre più pronto a sferrare l'attacco, a pagare la clausola rescissoria, voci di un rinnovo che non è arrivato, non è stato neanche discusso, che quindi può magari aver creato anche un po' di delusione nel giocatore che nella rosa è tra quelli che guadagnano meno, con un milione e mezzo che dovrebbe essere comunque stato adeguato a due milioni, però chiaramente Lukaku ne guadagna 8, Eriksen 10 e Lautaro ha sicuramente anche diritto a un aumento per dimostrare anche la fiducia nella sua maturazione, in quello che è riuscito a fare in questa stagione, nei suoi 16 gol che ha segnato, soprattutto poi determinante in Champions League, con 5 reti alla sua prima stagione nella competizione massima continentale, un Inter che deve quindi crescere e deve reagire a questa settimana difficile, adesso il Ludo Goretz-Razgrad, anche per lasciarsi un po' alle spalle del campionato, sarà una trasferta lunga, faticosa, l'Inter non riuscirà neanche a tornare nella notte di giovedì, ma si fermerà in Bulgaria per venerdì e poi al rientro farà una, diciamo, sgambata defatigante, poi subito sabato la vigilia per prepararsi al match con la Sampdoria, battuta 5-1 dalla Fiorentina, ma da non sottovalutare Inter che non può più lasciare punti per strada perché ne ha lasciati troppi nell'ultimo periodo a gennaio, ancora gridano vendetta i pareggi con Lecce e Cagliari, poi quello subito in rimonta a Firenze, una squadra che anche deve, quando è in vantaggio, gestire meglio le partite, non farsi rimontare perché sta diventando una casistica troppo frequente, con rimonte subito, a parte il derby però è stata rimontata dall'Atalanta, dal Lecce, dal Cagliari e anche a Firenze, questo assolutamente non è un dato positivo, Conte comunque ha tenuto a rapporto la squadra, ha detto che sono inammissibili gli errori commessi contro la Lazio perché sono stati i veri e propri regali che hanno cambiato la partita, due disattenzioni, una che ha portato incredibile al rigore, dubbio, lo sottolineiamo, questa mano appoggiata, una spinta lieve di De Vrij su Immobile, però anche lì Skriniar che non lascia la palla a Padelli, che non la chiama, quasi lo stende e poi si arriva al rigore su De Vrij, stessa anche regalo su il calcio d'angolo che poi ha portato al gol di Milinkovic e Savic, nessuno che va a chiudere, Padelli che si butta con i riflessi appannati, non vede il tiro partire, nessuno che chiude Milinkovic e Savic, veramente un gran peccato, comunque a parte queste due disattenzioni, questi due regali, se l'Inter avesse pareggiato non ci sarebbe stato niente da dire anche con quell'ultima occasione, quel gran passaggio illuminante di Eriksen per Lukaku e lì è stato acerbi, bravissimo a chiudergli la porta e a salvare la Lazio da un 2-2 che non avrebbe sicuramente demeritato l'Inter che ha fatto un gran primo tempo, molto attenta, ha vinto i duelli sulle fasce e poi si è fatta un po' riprendere dalla Lazio, ha sofferto in mezzo al campo Luis Alberto Milinkovic e Savic, la mediana come un po' ha detta di tutti, è la più forte in Italia e non solo, ma ha avuto anche le occasioni per pareggiare la partita, non mi sembra che sia stata massacrata, come ha detto qualcuno nei commenti, che andiamo a leggere, cominciamo la giornata con OneFootball perché c'è una notizia importante, il rinnovo che è arrivato di Piero Ausilio fino al 2022 per compattare, diciamo, uniformare tutta l'area tecnica con scadenza al 2022, così come Conte, come Marotta, è stato rinnovato anche il contratto a Piero Ausilio fino al 2022, un'intesa di massima, un premio per Ausilio, protagonista del mercato invernale, con Marotta, con i due dirigenti, autori di Colpi del Calibro di Moses, Ashley Young e Christian Eriksen, ma io sottolineerei soprattutto il colpo d'Evrai a scadenza due stagioni fa, che è stato veramente un grande colpo, vista anche la valutazione che adesso ha il difensore olandese sui 50 milioni, tra i migliori sempre anche all'Olimpico, nonostante quella continua, diciamo quei fischi debordanti dell'Olimpico contro di lui per aver lasciato la Lazio su Sport Mediaset, la vittoria del Milan, Rebic devastante con Ibra diventato bomber, ora sono all'Europa, riporta il Milan in zona Europa, il Toro non basta, il cuore, Pioli, Ibra arrabbiato, giusto così, complimenti a Gabbia, esordio dedicato ai miei nonni, e poi si entra già in Clima Champions, domani la sfida dell'Atalanta con il Valencia, poi Atletico Liverpool, ipotesi Juve, Soskia sbotta, Pogba è nostro, non di Raiola, che risponde subito, Pogba non è mio, ma nemmeno un suo prigioniero, con la Lazio che vede lo scudetto, il titolo vola in borsa, più 11,48% gioco carattere rigori, la Lazio è da scudetto, poi attenzione perché la UEFA dichiara guerra alle plus valenze fittizie, la Serie A trema, secondo appunto la UEFA è pronta a inasprire le norme in materia, a dichiarare guerra alle cosiddette plus valenze fittizie, ovvero a gonfiare il costo del cartellino, un giocatore da mettere poi in bilancio, una pratica per sanare in parto totalmente le perdite, accumulate durante l'esercizio fiscale, un metodo utilizzato da molte squadre di Serie A e su cui vuole intervenire la UEFA per porre un freno anche a questa pratica, che è stata molto utilizzata da tutti negli ultimi anni. Andiamo alla rassegna stampa cartacea con la Gazzetta dello Sport, in prima pagina la vittoria del Milan contro il Torino, 1-0 a San Siro e poi prosegue la lotta a Scudetto che non è chiusa con la sconfitta con la Lazio, Scudetto giù i jolly, Juve il calendario dalla sua parte, un'analisi completa, Lazio l'entusiasmo, Inter spinta Eriksen, Rebic il Milan riparte, vede l'Europa, Ante l'altro gol, il Toro lotta ma non basta, sempre a segno nel 2020 il Croato che era stato anche vicino all'Inter in estate, Teppioli, ottime risposte, Musacchi aveva un problema fisico, si è rifiutato di entrare comunque sempre anche problemi all'interno dello spogliatoio del Milan, Juve il calendario, Lazio l'entusiasmo, Inter spinta Eriksen, Sarri aspetta i nemici allo stadion e alla rosa più ricca, Inzaghi punta sul gioco e sulla magia Leicester, Conte ha nuove armi, favorita la Juve, mi sembra anche un po' assurdo paragonare la Lazio all'Eister perché la Lazio è da anni comunque che è sempre lì, ha vinto la Coppa Italia, è l'unica che è riuscita a battere la Juventus, insomma non è una outsider assoluta sorpresa come l'Eister in Inghilterra in Premier League qualche anno fa, il calendario Sarri se la gioca in casa, Inzaghi nella tana di Gaspo e Conte sta peggio di tutti, la signora è più ricca per quanto riguarda la rosa, più opzioni adesso per i nerazzurri, se tengono i fantastici 4 per la Lazio è dura per tutti, margini di crescita chi è linea, giusta la difesa lavora per esserci contro l'Inter, Eriksen accende la luce, Simone più di così non può crescere ancora di più, Lazio euforia da l'Eister, San Siro coccola l'Inter, Juve crepe da intonacare, missione stellare, la Lazio la sua pazza idea, nessuno ci credeva ma ora puntini puntini, Milinkovic scatta dalla mediana per firmare i gol che lasciano il segno, pagine dedicate all'Inter con il focus su Eriksen, il personaggio inserimento lento, all'Inter serve Eriksen, Conte lo vuole solo al top, il tecnico non fa sconti, prima deve essere dentro alla squadra, apprendistato soft in Europa League, cosa gli manca? Non solo la miglior forma fisica ma anche i giusti movimenti, cosa può dare? La squadra ha bisogno di una nuova scintilla in vista della Juventus, tenerlo umile non è mai stato un problema, ottimo ragazzo, l'ha definito Conte e tutti i suoi precedenti datori di lavoro hanno inviato referenze entusiastiche a livello di comportamento e capacità di fare squadra, a Christian Eriksen non serve un bagno di umiltà ma ne avrà comunque un altro giovedì, lui che da qualche mese fa giocava la finale di Champions, riparte in Europa da Razgrad a Bulgaria contro Ludo Goretz, del resto questo è l'inizio di una nuova avventura, non si può certo partire dai vertici, bisogna salire piano piano per potersi poi godere le conquiste, potremmo dire che Antonio Conte sta prendendo molto a cuore questo programma, ma in realtà i motivi dell'inserimento lento del danese sono altri, il tecnico le ribadisce a ogni occasione tentando di mascherare un fastidio crescente per le pressioni del fronte, Christian Subito è numeroso tra i tifosi, il fronte non sono poche le pressioni e ovviamente aumentano in corrispondenza i risultati negativi, l'Inter ne ha piazzati due con il rinforzo invernale ancora limitato a spezzoni, solo 18 minuti giocati all'Olimpico, forse magari almeno una mezz'ora avrebbe potuto essere più incisivo, Eriksen che ha avuto giusto il tempo di scaldarsi e provare a fare qualcosa, poi ausilio, c'è rinnovo fino al 2022 come abbiamo già detto, Zhang compatta l'area sportiva, segno di fiducia totale da parte di Suning, ora il DS adesso ha la stessa scadenza di Conte e Marotta, leggiamo non ci saranno nuovi scossoni societari, salvo ribaltoni improvvisi, in un club che negli ultimi anni ha cambiato molto, quasi tutto a livello dirigenziale, Piero Ausilio, direttore sportivo, rimarrà al legame con il recente passato, quello pressioning, il contratto del dirigente, 48 anni, era in scadenza nel prossimo giugno, nelle scorse settimane è stato trovato l'accordo per il rinnovo che era nell'area da un po' di tempo, Ausilio resterà di esse fino al 30 giugno 2002, altre due stagioni e durata uniformata a tutti gli altri vertici del club, e poi Candreva e Young, padroni in fascia, un segnale positivo nella notte più dura contro la Lazio, gli esterni sono piaciuti, con Biraghi e Moses reparto al completo, leggiamo, la serata dell'Olimpico ha lasciato diversi punti interrogativi in casa Inter, ma ha anche consegnato ad Antonio Conte nuove certezze, anche nelle partite più complicate, il lavoro degli esterni si è confermato all'altezza della situazione, e le due catene hanno funzionato molto bene, sincronizzate nei movimenti costanti, nel loro martellamento al fortino avversario, il gol ha visto protagonisti due esterni, Antonio Candreva ha costretto Stracoscia alla respinta maldestra, con un missile da fuori aria, e sulla ribattuta, Young è stato più lesso a fiondarsi sul pallone, volè di destro, schiacciata a terra e palla in rete. Il primo gol italiano dell'inglese sembrava poter indirizzare il match in tutt'altra direzione, in quel momento l'Inter aveva riagganciato in testa la Juve, ma soprattutto ha spinto la Lazio a meno 4 in classifica, fosse finita così. La rete di Young avrebbe avuto un sapore decisamente più dolce, sono felice per il gol, ma avrei preferito vincere la partita e portare a casa i tre punti, ha commentato a caldo il giocatore ex Manchester, che comunque è un rinforzo importante, positivo, fin da quando l'ha schierato subito in campo Antonio Conte, chiaramente si paga, e questo a col senno di poi è diventato un errore, si paga il fatto di non aver tesserato un portiere, un secondo portiere di un livello un po' superiore in estate, fidandosi comunque delle ultime stagioni in cui Andanovic non ha lasciato nessuna partita per strada, però questo a col senno di poi è diventato un errore, perché Padelli è inattivo da tre anni, alla fine paga il fatto comunque di non avere quell'abitudine, come ha sottolineato Walter Zenga pressing su Rete4 l'altra sera, gli mancano i riflessi, le giocate per un portiere che alla fine si è solo allenato negli ultimi anni, e a cui manca la partita e determinati anche allenamenti sotto pressione, che non si possono chiaramente ricreare alla pinettina di Appiano Gentile, e questo alla fine si è rivelato comunque un errore più che non aver tesserato Viviano, che alla fine bisognava poi capire, anche dargli un po' di tempo per entrare in forma, e forse sarebbe stato inutile quando metterlo sotto contratto per poi non farlo neanche giocare in Europa League, dove non si può modificare la lista. Andiamo sul Corriere della Sera, il caso Eriksen, Padelli, l'addio al primo posto, Conte si scopre fragile, l'Inter rinnova ausilio, il primo posto perso, un calendario difficile, Eriksen che da colpo di mercato si trasforma in caso, il problema del portiere ce n'è abbastanza per far tremare l'Inter, però è la sottolineatura nuda e cruda di Antonio Conte a fotografare la situazione, non siamo ancora grandi, la sconfitta dell'Olimpico contro la Lazio ha rimesso in discussione, il pianeta nero-azzurro incline a facile entusiasme, a drammatizzare i momenti negativi, secondo K.O. in campionato all'arma, non è però una pietra tombale sulla stagione, la di Beppe Marotta, il direttore sportivo ausilio, che su proposta del presidente Steven Zanga ha rinnovato fino al 2022, hanno analizzato la partita con Conte, il tecnico poi ha parlato alla squadra, niente toni eccessivi, ma ha bollato come inammissibili certi errori, l'Inter si gioca molto del suo futuro nei prossimi 15 giorni, a cominciare dal match facile giovedì con i bulgari dell'Udo Goretz, in cui non ci sarà l'influenzato Bastoni, l'Europa League è considerata quasi una seccatura, rischia di trasformarsi in un'ancora di salvezza, l'Orizzonti e Nerazzurri vedono lo scontro del primo marzo con la Juventus, non perdere è vitale per tenere aperto il discorso scudetto, quattro giorni dopo il 5 marzo l'Inter si gioca un posto in finale di Coppa Italia con il Napoli, lo 0-1 dell'andata è ribaltabile, ma al San Paolo serve un'impresa ai giocatori in grado di farla, uno di questi dovrebbe essere Eriksen, Conte è finito sotto accusa per averlo fatto giocare solo 18 minuti, contro la Lazio, critiche non proprio centrate, spesso eccessive, il danese non ha ancora il passo giusto per la Serie A, non conosce gli schemi per nulla alla fase difensiva, con il Ludo Goretz dovrebbe giocare dall'inizio, ma resta un giocatore da aspettare e inserire, può cambiare la partita con un colpo, ma ora non è capace di gestirla, Conte ha aspettative fisiche alte, Eriksen allo Stato non le soddisfa, per questo il tempo aveva chiesto Vidal, così l'Inter si interroga, valuta i rischi futuri, gli errori passati, all'Olimpico la sconfitta è arrivata per errori individuali, abbiamo regalato due gol alla sentenza di Conte, non aver preso un portiere in estate, come dicevamo prima, è diventato un problema, quando Andanovic si è fermato, pagato carissimo il vero salto, però l'Inter deve farlo a livello mentale, per reggere negli scontri diretti, deve decidere chi e cosa vuole essere l'Inter, ha 15 giorni di tempo, questa è l'analisi molto approfondita, di Guido De Carolis sul Corriere della Sera, andiamo al Corsport, che è stato abbastanza tenero, rispetto a quanto mi aspettavo, anche dopo l'attacco del giorno precedente, non ha rincarato la dose, processo all'Inter, ancora non c'è stato, nonostante la sconfitta con la Lazio, arrivata a pochi giorni da quella con il Napoli, due sconfitte in poco tempo, insomma, che hanno abbastanza minato, il morale nerazzurro, corsa scudetto a tre, Inzaghi nuovo leader, vi sfido io, vi raccontiamo l'ascesa del tecnico, il suo sogno, la Lazio si gioca il titolo con il Juve e l'Inter, io ci credo, lotteremo senza avere ossessioni, Inzaghi non mi fermo più, Lazio con gli occhi della Tigre, che scossa nell'intervallo, poi conte il paradosso, di nome Ericsson, la società ha preso il campione danese, per vincere subito, ma il tecnico lo sta gestendo, come se avesse un tempo che non ha, l'ex Tottenham non è Vidal, nella linea mediana contiana l'ideale non è lui, Antonio Conte passato, in una giornata dal primo al terzo posto, vive prigioniero di un paradosso, chiedeva acquisti di qualità per tenere l'Inter sulla rotta giusta, ma il più prezioso di tutti, ora non lo fa giocare, Christian Ericsson è una buona prospettiva, da cui guardare l'allenatore rientrato in Italia, per portare via lo scudetto alla Juve, in totale aderenza, la maniera in cui lo disegnano, in cui si lascia disegnare, Conte non era contento prima del mercato, non è contento adesso, se esistesse uno stato intermedio sarebbe infelice, oppure la Marotta, che lo conosce dai tempi del ristorante da 10 euro, lascia fare a bozza, sorvola in cassa, lo fa per fede, nessuno più di lui sa che cosa la ferocia di Conte, sia in grado di aggiungere alla classifica in una squadra, eppure Conte conosce il calcio da 40 anni, anche Lukaku Lautaro in frenata, ultime tre partite insieme senza segnare, c'è chi spiega il calo del Toro, con le voci in arrivo dal Barça, pronto a tutto, in aggiunta ci sono anche i maligni, quelli che immaginano l'argentino distratto dalle sirene del Barcellona, le ultime due prestazioni poco brillanti, vengono dopo l'espulsione, rimediata contro la Spal, che è il Cagliari, come al solito, il refuso del Cosport, dopo uno scoppio di ira nei confronti dell'arbitro, nel mezzo appunto, le nuove indiscrezioni rimbalzate dalla Spagna, quelle che lo vogliono già d'accordo con il club catalano, a sua volta disposta a valutarla, ancora più dei 110 milioni della clausola, che sono 111, insomma, abbastanza imperfetto questo articolo, in modo da poter inserire nell'affare un paio di contropartite tecniche, per fare plus valenza, in realtà i discorsi non sono così avanzati, ma il primo a manifestare in pubblico il fastidio per la situazione è stato sabato scorso Conte, Lautaro ha la testa sulle spalle per capire che le voci di mercato contano pochissimo, ma l'Inter si presta molto alle vicende di mercato, a differenza di altre società che sono molto più abbottonate, Inter quando crescono i rivali, i risultati e il rendimento calano, una sola vittoria con la Lazio l'andata contro le bighe di questa stagione, troppe rimonte subite, comunque l'abbiamo messo anche Napoli, abbiamo messo anche la vittoria col Dortmund, insomma, non solo la vittoria con la Lazio l'andata, scarsa abitudine a vincere da parte della Rosa, ma pure alcuni errori tattici, bello che il Core Sport mette nelle sconfitte quella con il Napoli in Coppa Italia, ma non mette la vittoria in campionato. Per lui, chance in Coppa verso Ludo Goretz, due sconfitte, consecutiva era caduto solo una volta in stagione, caduta Barcellona in Champions, e quindi con la Juventus in campionato, poi ci fu la sosta, e l'Inter tornò subito a vincere 4-3 in casa del Sassuolo, stavolta non ci saranno pausi, i nerazzurri tornano in campo già giovedì contro Ludo Goretz, andata a sedicesimi di Europa League, sulla carta è l'occasione buona per riprendere un po' di fiducia, magari per vedere in campo dall'inizio Eriksen, anzi, il doppio match con i Bulgari, insieme alla sfida di domenica prossima con la Sampdoria, dovrebbe servire per mettere in migliori condizioni il danese, visto che poi il primo marzo ci sarà lo scontro diretto con la Juventus in Bulgaria, Razgrad, da cui l'Inter farà rientro solo venerdì, non ci sarà Andano, invece toccherà nuovamente a Padelli, out anche Bastoni, influenzato da quando si è fatto male al minero della mano sinistra, lo scorso 31 gennaio, il portiere Slovena ha voluto sempre andare in panchina, pur non avendo chance di giocare, l'obiettivo a questo punto è che possa tornare contro la Samp, o al più tardi nella gara di ritorno con Ludo Goretz, così da testare la tenuta del dito prima della Juve, turnove nell'Europa League, comunque ci saranno alcune rotazioni giusto per gestire meglio le forze, in difesa dubbio Bastoni, che ha la febbre, potrebbe esserci spazio per D'Ambrosio, ricambio completo sulle fasce con Moses e Biraghi, a centrocampo si proverà a non far giocare tutta la partita a Brozovic, magari Borca Valero, che è un po' sparito dai radar, ma l'aveva fatto bene quando è stato chiamato a dire la sua a centrocampo, poi la possibilità di far rifiatare un attimo Lukaku, e far giocare Sanchez giovedì ore 18.55, il debut dell'Inter in Europa League, chiudiamo la nostra rassegna stampa, la nostra lettura dei giornali con Tutto Sport, che è stato molto duro con Sarri negli ultimi giorni, nonostante la vittoria con il Brescia, ecco perché ti fischiano in prima pagina di Tutto Sport, un'analisi dei fischi di Domenica a Dybala, che ha provato a zittirli dopo la bellissima punizione con cui ha risolto la sfida con il Brescia, una Juve che però fatica, soprattutto anche da Torino, sponda a Tutto Sport, arrivano delle critiche a Sarri, al gioco che non convince, adesso arriva anche la Champions, il momento decisivo anche per la Juventus, che deve lasciarsi alle spalle, insomma un periodo non facile, e cercare di andare avanti e proseguire su tutti gli obiettivi della stagione, ecco perché ti fischiano prima in campionato, agli ottavi in Champions, in semifinale di Coppa Italia, eppure la Juve non piace ai suoi tifosi, non è una questione tattica o estetica, viaggia alle radici del malumore bianconero, fischi da primato, Juve serve di più, ecco perché una parte del popolo bianconero non è soddisfatta della squadra, non si sfrutta il potenziale, sembrano demotivati, non c'è identità di gioco, queste le critiche, e poi si aspetta il ritorno di Chiellini, sollievo Pjanic che punta il Lione, Ronaldo Anusa area di Champions e torna in campo, Pogba prima è Scintille, l'abbiamo già letto su Sport Mediaset, e poi l'analisi della Lazio, leader a Cerbini, la Lazio ha trovato la dimensione ideale, anche Klopp ti fa Lazio, Inter oggi non siamo grandi, tanti sono in campionato i punti persi dai nerazzurri, azzurri 11 per essere stati rimontati, la squadra finora ha fallito tutti gli incroci decisivi della stagione, big match in A, Champions e Coppa Italia, chi ne metta, l'Inter ha poca qualità, non siamo padroni delle situazioni, poi magari perdi, ma te la giochi, e qui un'analisi, tutti gli esami falliti, chiaramente si esagera, per ora è un Inter in compiuta, scossa di qualità, Eriksen l'Europa per vedere la Juventus, il paradosso anche qui, Young e Moses che erano ai margini con United, Fenerbahce giocano più di lui, e poi il caso nella difesa a tre, non è più Skriniar, gli errori col Barca, a Firenze nel derby e con la Lazio, un problema in più per Conte da risolvere, questa l'analisi dura di tutto sport, naturalmente non si può aspettare di altro, però bisogna solo che ripartire, perché è tutto ancora conquistabile, una sconfitta, la seconda solo in questo campionato, non cambia gli obiettivi, non cambia quanto di positivo si sta facendo, e quindi bisogna solo lasciarsi alle spalle tutto, e puntare adesso Ludo Goretz, Sampdoria e poi ancora Ludo Goretz, Juventus e Napoli, per ribaltare la semifinale di Coppa Italia, tutti obiettivi alla portata, con un Eriksen in più da inserire, e con un ritorno di Andanovic, che darà quella sicurezza che è mancata, quindi grazie ancora per il vostro seguito, i vostri kick, i vostri commenti, li aspetto, mi raccomando, sempre sintonizzati, Sport Mediaset.